Ogni giorno i consumatori di tutta Europa acquistano milioni di prodotti, dando per scontato che siano sicuri. La Commissione europea collabora con produttori, importatori, rivenditori, esperti e 31 autorità nazionali per individuare i prodotti pericolosi e segnalarli tempestivamente al sistema europeo di allerta rapida. Questa rete lavora tutto l'anno, giorno dopo giorno. Scienziati, ispettori e tecnici effettuano prove e controlli per individuare i prodotti pericolosi. I prodotti considerati pericolosi per i consumatori sono segnalati alle autorità affinché li richiamino direttamente o li facciano ritirare dal commercio. Visto però che le merci circolano in tutta Europa, gli stessi prodotti possono essere ancora in vendita in altri paesi europei. Grazie al sistema europeo di allerta rapida, le informazioni sui prodotti pericolosi rinvenuti sul mercato sono diffuse rapidamente in tutta Europa. Ogni settimana viene pubblicato online un elenco dei prodotti pericolosi individuati. Tutti possono consultare questo sito e verificare quali prodotti non dovrebbero essere in vendita. Sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi. A protezione dei consumatori europei. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS